Per gli inquirenti è l'autore del furto commesso il 9 novembre del 2015 e danni di un bar del quartiere Baracche a Gela che furtò un bottino di circa 10.000 euro. Lui è Vincenzo Scerra, 20 anni, con precedenti penali. È stato rintracciato a Paullo, in provincia di Milano, dove risiede da qualche tempo, adesso è ai domiciliari. L'ordinanza di custodia cautelare è stata messa dal GIP del Tribunale di Gela, Paolo Andrea Fiore, su richiesta del Pubblico Ministero Eugenia Belmonte. Ad eseguirla è stata la polizia. Con la preziosa collaborazione della scientifica è stato possibile appurare come Scerra, quel giorno, ripreso dalle telecamere, è uscito di casa per andare ad effettuare il colpo ed è stato successivamente ripreso mentre entrava nel bar, abbandonando sul luogo un palanchino utilizzato per forzare l'ingresso dall'esercizio commerciale. La perfetta compatibilità del vestiario, il possesso di un palanchino e di una borsa per occultare la refurtiva e la tempistica dei fatti, ha permesso agli inquirenti di avere un quadro probatorio di assoluto rilievo. Comparando le diverse immagini è stato possibile risalire al ragazzo. Sono in corso attivissime indagini al fine di provare l'eventuale coinvolgimento di Scerra in altri furti avvenuti a Gela, sempre ai danni di barra. Ed uno pregiudicato di 38 anni, Vincenzo Cannizzo, è stato arrestato sempre dalla polizia per avere invaso la corsia opposta ed aggredito i poliziotti che lo hanno fermato. Il 38enne, dopo un lungo inseguimento per svariati chilometri, è stato sorpreso al cellulare mentre, per l'appunto, era alla guida della sua auto nella corsia opposta. Quando gli agenti lo hanno bloccato ha iniziato ad insultare i poliziotti e ad aggredirli. Uno degli agenti è stato anche ferito. Sottoposto all'alcol test è risultato positivo. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari. E i carabinieri hanno ammanettato Giuseppe Guastella, 33 anni. L'accusa è di furto aggravato e possesso di coltello di genere vietato. È stato sorpreso a bordo di un autocarro mentre si apprestava ad abbandonare l'area di un cantiere di una locale ditta di materiali edili. I militari dell'arma hanno bloccato il mezzo al cui interno c'era anche un minore. Rinvenuti attrezzi atti allo scarso, un coltello con lama da 20 cm, 120 bacchette di ferro da costruzione ed un pannello di lamiera coibentato. L'area furtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittimo proprietario. Guastella è stato collocato agli arresti domiciliari.